L'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione carabiniere Pietro Poli di Gardone Valtrompia è oggi forte di 220 soci, fra i quali si annovera da 34 anni chi vi sta parlando in questo momento. L'Associazione Nazionale Carabinieri è presieduta dal 2016, rieletto il 2022, dal brigadiere carabiniere Gian Pietro Torri. Sono molteplici le iniziative che nel corso dell'anno sociale vengono effettuate, ma il presente 4 di novembre rappresenta sicuramente un appuntamento assai significativo. Vengono infatti onorati di un attestato di fedeltà all'arma i soci della Benemerita che ininterrottamente per 40 e per 50 anni hanno dato lustro con la loro presenza alla Associazione Nazionale Carabinieri. La cerimonia si svolge nella sede sociale di via Monteguglielmo 28 barra A ad Inzino di Gardone Valtrompia, dove per l'occasione abbiamo incontrato e sentito il presidente della ANC, Gian Pietro Torri. A partire da gennaio 2017 il Consiglio Nazionale della Presidenza ANC di Roma rilascia a richiesta ai soci attestati di fedeltà per i 20, 40 e 50 anni consecutivi di appartenenza all'Associazione Nazionale Carabinieri con la facoltà di fregiarsi di medaglia di bronzo, argentata e dorata. Nel 2018 questa sezione ne ha consegnato 11 ad altrettanti soci con oltre 50 anni di iscrizione alla ANC. Ora, dopo il periodo del Covid, questa sezione ha ripreso l'elenco di chi ne aveva diritto e per il giorno lunedì 4 novembre 2024 presso la nostra sede di via Monteguglielmo 128 A ad Inzino ci sarà una semplice cerimonia a cui seguirà un sovio rinfresco e durante questa cerimonia consegneremo 34 attestati di fedeltà per 50 e 40 anni consecutivi di appartenenza all'Associazione Nazionale Carabinieri. Questa sezione attualmente conta 220 soci effettivi, simpatizzanti e familiari. Il Consiglio di sezione ha ritenuto di premiare giustamente questi 34 soci che per 50 e 40 anni oltre sono fedeli all'Associazione Nazionale Carabinieri. La Virgo Fidelis è la patrona dell'Arma dei Carabinieri. Dall'aggettivo Fidelis, riferito alla Madonna, deriva abitualmente l'appellativo di fedelissima, sempre dato all'Arma dei Carabinieri per le innumerevoli dimostrazioni di fedeltà alle istituzioni che i Carabinieri hanno sempre e continuamente dimostrato. La Virgo Fidelis si festeggia in Valtrompia domenica 24 novembre. Al proposito, sentiamo ai nostri microfoni il Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Gardone-Valtrompia, Brigadiere Gian Pietro Torri. Dopo la cerimonia del 4 novembre, il Consiglio Direttivo della sezione ANC di Gardone, insieme a quelle di Villa Carcina, Lumezzane e Bovenio, hanno organizzato la cerimonia della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia quest'anno avverrà a Villa Carcina il 24 novembre 2024. Alle ore 11 ci sarà la Santa Messa, successivamente ci sarà il pranzo presso un locale di ospitaletto. Aspettiamo tutti i soci per questa cerimonia, aspettiamo tutti i soci che hanno ricevuto il programma con le modalità per la prenodazione, aspettiamo numerosi.